amici tutti nuovamente qui all'oliveto oggi il tempo abbastanza bello e adesso andiamo a verificare le temperature di questi due giorni su quel quell'olivo che avevo fatto vedere lo scorso video dove ho posizionato un termometro così almeno possiamo monitorare bene ecco io qui non ho ancora zerato niente sono arrivato stamattina quindi quello che troviamo di temperature quello che ha fatto gli ultimi due giorni ok speriamo che si vede abbastanza bene sì allora le temperature minime negative sono state meno 6 gradi meno 6,1 adesso in questo momento sta facendo 9 gradi e ha fatto delle temperature massime 16 gradi questi due giorni quindi almeno da qui vediamo che grosse cose negli ultimi 6 7 anni non sono cambiate perché c'è sempre un divario molto altro tra minima e massima qui in quanto comunque siamo esposti un po alle correnti che arrivano dalla liguria questo che io sto inquadrando il nord qui è ovest in lontananza si dovrebbe intravedere il monviso e girandomi questa è la parte sud quindi da questa parte qui riesce a infiltrarsi un po il marino che dà l'amitezza un po del luogo va bene quindi anche neve insomma si è già sciolto adesso abbiamo sti 10 gradi in questo momento siamo mezzogiorno passate ok questo però è quanto ci aggiorniamo i prossimi video così continuiamo un po seguire l'andamento invernale di questo 2020 2021 per ora è tutto presto